Istruzioni per l'uso, protagonisti e proposte per il futuro di Roma. Eoni fa la RAI, ma... Anche una lontana esperienza a Radio Città Futura. Una lontanissima esperienza a Radio Città Futura, è vero, è vero. Abbiamo vista spesso protagonista di servizi in TV, brillanti, venati da ironia. Grazie. Qui si troverà costretto in un contesto un po' più compassato e preparato, sì? Molto compassato, no, molto compassato, però tra noi, devo dire, tra noi candidati, perlomeno quelli che riesco a frequentare io, c'è grande allegria e grande solidarietà, grande spirito di gruppo. Più a suo agio, nella veste di intervistatore o intervistato? Questa quasi mi sembra una domanda con risposta ovvia. Beh, sai, come intervistatore ho 30 anni di esperienza, come intervistato un po' meno. Da quando è che ha sposato la causa del movimento di Beppe Grillo? Io ero un grande fan di Grillo già quando faceva il comico, quando mi ricordo, te la do io l'America... E lì erano in tanti. Erano in tanti, esatto. Poi quando lui ha cominciato a impegnarsi socialmente, io mi ricordo delle sue grandi affermazioni di volontà durante i consigli di amministrazione della Telecom, quando andava a dire a tutti, siete dei ladri, dateci i soldi e tutte queste cose qui. Era un Robin Hood, io vedevo un Robin Hood che finalmente diceva le cose in faccia al potere. E già lì, insomma, io dicevo, ecco, ci vorrebbe uno così, perché uno così non fa il politico? E poi quando l'ha fatto, ovviamente, mi sono trovato assolutamente coincidente. Quindi già nel 2007 io mi sono iscritto al blog, ho cominciato a partecipare a tutte le votazioni online che sono state fatte, credo di non averne saltata neanche una, e devo dire una cosa, ecco, non si dovrebbero rivelare queste cose, per me mi fa piacere rivelarla, ho sempre votato contro le espulsioni. Pertanto le espulsioni poi sono state sempre... hanno sempre vinta maggioranza, quindi posso anche dirlo, insomma. Io ero sempre contro. Prima del 2007 per chi votava? Prima del 2007 io devo confessare, come ha fatto anche Virginia Raggi, che votavo per quello che ora è il PD. Ma non è un peccato. No, no, per carità, beh, era di sinistra, per cui... Tutti veniamo da qualche parte, insomma, c'è gente che ha votato tantissimi partiti, se lei ne ha votati soltanto due, in fondo è quasi nella media nazionale. No, poi ho una cosa da rivelare, che questo forse non lo sa nessuno, perché si è tanto detto, no? E il papà di Battista, e lo studio della... beh, anch'io, se volete, allora, volete infierire, mio papà è stato candidato negli anni 70 per Stella e Corona, ecco, ora ho fatto questo outing. Stella e Corona, chissà chi si ricorda più, infatti, i monarchici. Abbiamo detto dei Waffa Day, quindi dopo la fase in cui Grillo si rendeva popolare a un pubblico non esclusivamente appassionato di comicità. Bene, in quel tempo, il tempo dei Waffa Day, tra i principali bersagli c'erano i giornalisti. Lei, un giornalista, si trovava a disagio per le offese, perché in qualche caso si parlava anche di offese rivolte ai colleghi? Mi sono sentito a disagio, ma capivo perfettamente, perché Grillo e comunque quelli che venivano definiti grillini ce l'avessero con la nostra categoria, perché la nostra categoria è infame. Cioè, un giornalismo... Magari andiamo un po' troppo sul pesante, dire che una categoria è infame, bisogna distinguere. No, no, certo, una categoria è infame, stavo spiegando, stavo argomentando. È infame perché non esiste il vero giornalismo come esiste in altri paesi, penso agli Stati Uniti, per esempio, dove gli editori sono veramente liberi dal potere politico. Magari sono miliardari che hanno fatto i soldi col petrolio e magari difenderanno la lobby del petrolio, però sono liberi dal potere politico. E quindi molto spesso è successo questo nel giornalismo italiano, che la maggior parte di quelli che lo stesso Grillo definisce i poveri precari che devono campare, quindi per campare hanno deciso di scrivere, si devono adeguare a delle regole che vengono imposte dall'alto. Il giudizio può essere vero il suo, ha conosciuto i tanti giornalisti e sa che c'è la possibilità di avere la propria autonomia, di riservarsi uno spazio critico anche all'interno di redazioni che possono apparire dall'esterno. Forse quelli dell'età nostra, sì, ma se pensiamo ai giornalisti che vescono dalle scuole, che hanno adesso 20-25 anni e che vengono pagati 7 euro a pezzo, sicuramente questi non hanno la libertà che abbiamo avuto noi di scrivere. Ha seguito senz'altro il confronto TV fatto a SkyTG24. Ho seguito lei però, tra i cinque candidati, che le è sembrato, le chiedo un giudizio quasi tecnico, da giornalista, da collega, sono appuntamenti utili con quelle regole, peraltro, molto strette e stringenti. Esatto, mi sembra una cosa molto, cioè si cerca di fare show a tutti i costi, su delle cose anche molto serie. Dare 30 secondi, un minuto, quello che aveva, un minuto mi pare, per rispondere a delle domande che richiederebbero cinque anni di consigliatura, mi sembra veramente poco. Mi sembra utile solamente da un punto di vista, per avvicinare tutti quelli che magari non andrebbero a votare, incuriosirli e dire, ma sì, ma quasi quasi ci vado perché quello mi sta simpatico. Però certamente non sono dirimenti dal punto di vista politico. Alla 7 mentana immagino avrei potuto farlo un confronto così però. Eh, mentana sì, mentana vorrebbe stare tutti i giorni con dei politici attorno e interrogarli, diciamo. Perché solo un confronto TV? Sembra che a non renderli possibili sia stata proprio la volontà della Raggi di non farlo. Cos'è il solito vizio di chi si crede in testa nei sondaggi che non vuole correre il rischio di perdere terreno? No, non penso sia questo, non penso sia questo. Questo ha a che fare non tanto con la Raggi quanto proprio con la politica di comunicazione del Movimento 5 Stelle che è sempre stata, diciamo, attenta a non far passare un messaggio in maniera confusa. Per cui, chiaramente, quando tu hai, per dire, un Gasparri, un Minzolini o altre persone così che alzano la voce, un Andrea Romano che adesso è proprio, per quello che mi riguarda, il peggio del peggio dal punto di vista... Quindi meglio le interviste a tu per tu, come stiamo facendo noi, piuttosto che i salotti. Eh beh, assolutamente, almeno diciamo delle cose, perché in un salotto c'è chi si sovrappone, chi urla, chi fa intenzionalmente dell'ostruzionismo, si mette a fare le risatine oppure fa di no con la testa... C'è una domanda che viene rivolta spesso agli altri candidati, non alla Raggi, ovvero qualora non andaste al ballottaggio, per chi votereste? Alla Raggi non viene rivolta perché si dà per scontato che la Raggi, per l'appunto, al ballottaggio ci vada e ci vada in testa. Ecco, io la giro a lei la domanda, qualora non dovesse andare al ballottaggio il Movimento 5 Stelle, lei per chi votereste? La ringrazio per questa domanda personale, ovviamente la mia risposta non investe il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è fatto ai tanti test e ognuno ragionerà come vuole. Personalmente io non voterei per nessun altro, perché nessun altro è in grado di cambiare Roma come è in grado di cambiare il Movimento 5 Stelle. Una tranquilla giornata di mare, quindi. Insomma, facendo il rappresentante di lista... Questo rischio sembra non ci sia. Sendo il rappresentante di lista, anche, non penso che sarò al mare. La vostra campagna elettorale è stata caratterizzata e condizionata dalla vicenda degli avvisi di garanzia, in particolare quello del sindaco di Parma, Pizzarotti. Di che fine ha fatto Pizzarotti e tutta la sua vicenda? È rimasta in sospeso? È rimasta in sospeso, non è che in sospeso. Io tenderei a rispondere come ha risposto Luigi Di Maio, cioè attualmente c'è un'istruttoria in corso da parte del Movimento 5 Stelle rispetto alla presunta violazione del codice etico. E quindi mi sentirei di non dire nulla in proposito per non danneggiare lo stesso Pizzarotti. Non c'è un'eccessiva invadenza da parte del cosiddetto direttorio del Movimento 5 Stelle, Di Maio e gli altri, nelle vicende dei candidati locali. Anche in questa vicenda di Roma Di Maio è apparso anticipare le mosse della Raggi, costringendo poi la Raggi a precisazioni e a puntualizzazioni. Beh, dunque, ma deve considerare questo, che le posizioni del Movimento sono le posizioni del Movimento, quindi non sono le posizioni della Raggi, né di Di Maio, né di Di Battista, né della Raggi. Però il sindaco ha eletto direttamente le cittadini. Certo. Abbiamo fatto una legge tanti anni fa. Però il sindaco rappresenta un programma che è stato deliberato, deciso, insieme a tutti gli attivisti, mediante grandi votazioni, grande elaborazione. Sono durate anche anni, a volte, alcuni tavoli. Per cui questo programma non è l'espressione di Virginia Raggi, è l'espressione del Movimento 5 Stelle. Ci portiamo avanti col lavoro. Siamo già dopo il 19 giugno, il Movimento 5 Stelle conquista il Campidoglio. Lei arriva in Consiglio Comunale. Che va a fare? Allora, io intanto devo dire che sono un cittadino comune, sono un giornalista d'accordo, però, ovviamente, delle istituzioni in questo senso, non ho l'esperienza che possono avere la Raggi, De Vito. Quindi, per quello che mi riguarda, sarò nel Consiglio Comunale. Poi, naturalmente, ognuno di noi verrà inserito in qualche commissione. Personalmente, io ambirei ad andare in quello del cosiddetto sviluppo culturale, sviluppo culturale, però sono anche interessato, ovviamente, in quanto ciclista, a quello della mobilità. Senta, un'ultimissima curiosità, visto che parliamo di mobilità. Ma lei l'ha capita questa idea, questa proposta della funivia che va da Casalotti a Battistini? Sì, certo, certo. Anzi, io, siccome ho visto tante polemiche, sono sorte in maniera abbastanza sterile, secondo me, su questa cosa qui, vorrei invitare tutti i vostri ascoltatori a collegarsi al sito funivia.org, dove troverete tutte le città del mondo che hanno delle funivie e che funzionano perfettamente. Quella da Casalotti a, mi pare, a Mattia Battistini. Alla metro di Mattia Battistini. Mi sembra un'ottima idea, ma lei la conosce via... La conosco piuttosto bene. Oh, perfetto. Lì ha visto che farci un tram bloccherebbe il traffico per dieci anni. E allargare... Lì il traffico è bloccato, non da dieci anni, da sempre. Si figuri se ci si fa una tramvia o se si fa qualche intervento di questo tipo. Farci una funivia con molte cabine grandi sarebbe una risposta per tutti quei poveri cittadini che sono imbottigliati nel traffico la mattina in orario di punta. Bene, vedremo alla prova il Movimento 5 Stelle, se gli elettori daranno fiducia al Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali che vedono candidato anche il nostro ospite di oggi, Ivo Mey, che ringrazio. Ho fiducia nei romani. Grazie a voi.